pomeriggio sia perfettamente funzionante. Mi fermo qui e adesso verifico un attimo se possiamo partire, dopo poi non ci fermeremo più, state tranquilli. Ecco diciamo che come ha ricordato anche l'assessore l'obiettivo di questa iniziativa non è tanto una celebrazione, non abbiamo niente da celebrare e da festeggiare ovviamente 150 anni dopo, ma soprattutto per sottolineare l'importanza di una corretta cultura del rischio, cultura soprattutto della prevenzione. I terremoti non sono prevedibili, se anche qualcuno vi racconta che lo sono o leggete da qualche parte che c'è stato di qualche caso in Giappone, in Cina, in Russia, da qualche altra parte che c'è stata questa previsione sono episodi poco più che casuali, perché per un terremoto che forse è stato previsto, oppure diciamo che è stato previsto ma magari incidentalmente o accidentalmente, decine e centinaia continuano a fare vittime, quindi evidentemente il metodo non funziona, perché un metodo perché funzioni deve essere ripetibile, deve essere diciamo affidabile e ripetibile, insomma in questo caso non lo è, viceversa salvaguardare, diciamo si possono salvaguardare beni, risorse e sane e anche economiche, anche diciamo di produzione e di produttività salvaguardando i nostri edifici attraverso una corretta prevenzione, quindi adeguando edifici, fabbriche, scuole e tutti pubblici e privati adeguando l'esiste del terremoto, perché vi dirò una cosa incredibile, questo è possibile anche per le case del nostro straordinario e fragilissimo patrimonio edilizio medievale, antichissimo e bellissimo, perché è parte della mia presentazione, perché la nostra cultura scientifica in ambito sia di sismologica sia di ingegneria sismica non ha non ha diciamo concorrenti al mondo, quindi abbiamo una tradizione lunghissima, abbiamo nella prima metà del Settecento, così come la prima casa sismica è stata inventata nel 1570 a Ferrara, quindi questo per darvi l'idea di quali semi si sono seminati nella storia su cui sono cresciute queste due poderose piante, quella della sismologia italiana e quella dell'ingegneria sismica italiana. Quindi al di là delle polemiche ponte sì o no, il ponte sullo Stetto di Messina dal punto di vista ingegneristico si potrebbe realizzare, è stato progettato da grandissimi ingegneri della nostra tradizione già diversi decenni fa. Francesco siamo pronti? Possiamo partire? Ok, scusate ma io aspettavo l'ok da lui. Inviterei, cambia un attimo l'ordine, solo un attimo, facciamo venire il collega Gabriele Tarabusi perché lui deve rientrare velocemente a Bologna, non diciamo che è per una cena importante, fissata da mesi. Allora buon pomeriggio a tutti, io ringrazio tutti gli intervenuti ma in particolare che ci ospita oggi il comune di Belluno, Graziano per aver organizzato questo convegno e per avermi invitato a parlare. Io ho un titolo un po' complicato che ieri ho declinato per una platea di professionisti, ingegneri, architetti e geometri, giuserò più o meno le stesse immagini cercando di veicolare appunto a voi e anche gli intervenuti di oggi quello che noi facciamo come istituto per la divulgazione dei terremoti storici. Siamo molti di occuparci, un buon numero di occuparci di studio dei terremoti storici e dopo vedrete nella presentazione di Graziano Ferrari il perché studiare i terremoti del passato è importante. Oggi vedremo alcuni aspetti, io mi concentrerò più che altro sugli aspetti che possono interessare in particolare la popolazione che è oggi intervenuta per questo convegno. Io cercherò di raccontare alcuni dei tanti prodotti che facciamo e uno in particolare ve lo descriverò nel dettaglio perché nella sala antistante questa potete vedere in un monitor proprio questo strumento che appunto viene presentato e nella pausa Graziano Ferrari ve lo illustrerà nel dettaglio. Nel frattempo vi introduco a quello che sono le banche dati del nostro istituto, l'istituto produce molti dati e li pubblica ovviamente, la ricerca, non siamo un istituto di ricerca quindi la ricerca e anche il monitoraggio sismico che noi facciamo e anche vulcanico, producono dati che vengono pubblicati nel nostro sito, vedete tramite il menu in alto, risorse e servizi e poi cataloghe e banche dati. Da qui potete accedere a un elenco delle principali banche dati ma da qualche tempo è disponibile, forse non tutti ancora lo conoscono, il portale dei dati aperti dell'istituto. Cos'è il portale dei dati aperti? Fondamentalmente è un catalogo di metadati che consente di fare delle ricerche per parole chiave, per area geografica, per tipologia di dati, per rispetto a tutti i dati prodotti dall'istituto e pubblicati. Quindi questo è un accesso prezioso ai nostri dati che suggerisco che è interessato di provare a raggiungere e magari provare a fare qualche ricerca sui temi di proprio interesse. Abbiamo poi delle banche dati macrosismiche, nelle esamine NGV, cioè banche dati relative alla sismologia storica. Vi illustro le tre principali a scala nazionale perché chi atterra sui nostri portali, quelli che avete visto prima, può effettivamente non capire in un primo impatto perché esistono, diciamo, tre diversi oggetti a scala nazionale che presentano i terremoti storici. Il primo che vi faccio vedere è il catalogo dei forti terremoti, dove ne parlerò con un pochino più di approfondimento. È un catalogo dove sono raccolti i risultati di ormai oltre 35 anni di ricerca, siamo quasi a 40 anni. In questo catalogo, no, 30 anni di ricerche, non ho trattato mali conti, e arriviamo a, quindi qui siamo a livello della ricerca. Ci sono oltre 1200 otti che sono descritti, appunto, nei loro effetti, effetti sull'ambiente naturale, effetti soprattutto sull'edificato, sulle opere antropiche. Questo catalogo però raccoglie gli studi, diciamo, fatti da un gruppo di lavoro abbastanza esteso dell'istituto, ma ci sono molti altri ricercatori, studiosi, che fanno ricerca di sismologia storica, e quindi producono articoli scientifici, altre banche dati magari a scala locale, sempre di interesse italiano, e queste vengono archiviate, appunto, all'interno di questo archivio storico macrosismico italiano. Questo archivio è un archivio che, diciamo, archivia i dati sintetici, i valori di intensità registrati al sito relativi ai terremoti italiani, studi anche per lo stesso terremoto, uno potrebbe essere del catalogo dei terremoti che abbiamo visto prima, ma anche raccoglie tutti gli altri studi, quindi si possono essere confrontati tramite questo strumento i diversi studi che si sono succeduti nel tempo relativamente ai terremoti storici. Partendo da questo archivio, viene poi fatta una sintesi, ovviamente, che è il catalogo parametrico dei terremoti italiani e relativo database macrosismico italiano, database delle osservazioni nesi, che adesso dopo lo vediamo. Qui si fa una selezione, quindi, dello studio migliore presente all'interno di ASMI, spesso quello del catalogo dei forti terremoti, altre volte ci sono studiosi che hanno fatto ricerche più recenti e può essere stato scelto un altro studio. Quindi abbiamo un solo studio di riferimento per ciascun terremoto e un catalogo completo della sismicità italiana dall'anno 1000 ad oggi, con anche per i terremoti più recenti dati strumentali, chiaramente. Questi sono appunto il portale del catalogo parametrico dei terremoti italiani e del relativo database macrosismico italiano, vi faccio vedere molto rapidamente, si può fare una consultazione per terremoto, quindi sostanzialmente andando per ta, qui ci sono terremoti, diciamo, archiviati nel catalogo, si tratta di terremoti di magnitudo maggiore di qua e storici dall'anno 1000 in avanti e potete fare una ricerca cronologica, vederne gli effetti, vedere l'epicentro, vederne i parametri. Poi è possibile ovviamente fare una consultazione per località e questo consente ad esempio per la città di Belluno, qui vediamo, di avere una cronologia dei terremoti con anche un grafico e vedere appunto gli effetti osservati a Belluno per i diversi terremoti storici. Vediamo che Belluno ha 80 effetti noti da terremoti nel passato, alcuni con danni, altri no, però insomma questi sono gli effetti. Bene, passiamo però al, ritorniamo al piano della ricerca, al CFT 5MED, vi racconto molto velocemente che cos'è, è l'ultima versione del catalogo dei forti terremoti, era lo studio di riferimento per la maggior parte dei forti terremoti appunto presenti in CPT, quindi si concentra prevalentemente sui terremoti che hanno fatti significativi questa ricerca, vi dicevo sono oltre 1100 e vengono erogati anche non solo tramite un'interfaccia grafica, i dati, ma anche tramite servizi web e questa è una cosa che più forse interessa ai professionisti, ai tecnici. Andando avanti vediamo che il catalogo dei forti terremoti da che cosa si distingue rispetto a tutti gli altri cataloghi. Prima vi ho detto che è una raccolta di studi, fondamentalmente un macro studio su tanti terremoti e quindi non solo fornisce i valori di intensità al sito, intensità della scala mercallica in Canisiberg, dopo vi spiegherà che cosa è esattamente Graziano, ma insomma non solo quantifica numericamente gli effetti di un terremoto, ma anche è sostenuto da dei commenti storici di sintesi che hanno fatto i ricercatori degli effetti dei terremoti, ma effetti non solo sul questo antropico, quindi sugli edifici, ma anche sull'ambiente naturale, si tratta anche la risposta sociale istituzionale, viene descritta l'intera sequenza sismica in cui la scossa principale che l'utente sta guardando in questo momento è inserita e quindi diciamo si dà un contesto pieno di quello che è stato il terremoto e dei suoi effetti. Gli effetti anche vi dicevo sull'ambiente naturale e sul contesto antropico a livello di singola località, quindi per ogni singola località c'è una sintesi, vedete che tra parentesi nelle sintesi ci sono dei riferimenti, dei numeri che sono i riferimenti bibliografici, questo perché il catalogo dei forti terremoti si basa ovviamente, queste sintesi dei ricercatori sono a base di notizie che sono fatte trovate all'interno di fonti storiche. Queste fonti storiche sono oltre 47.000 e di cui circa la metà sono direttamente consultabili in formato PDF e possono essere quindi lette dalle persone che sono interessate dagli studiosi ma anche dai cittadini nel vostro caso. Questo sistema di archiviazione che io ho fatto vedere molto velocemente ma in realtà è piuttosto complesso, garantisce una cosa molto importante, la trasparenza dello studio, cioè per centinaia di terremoti il CFT consente di fornire un quadro completo che permette di inserire il terremoto nel contesto storico, sociale ed economico, con le rotazioni alla base delle singole attribuzioni di intensità, cioè come il ricercatore ha fatto quella attribuzione di modo che possa anche essere corretta in futuro se ci fossero errori o ci fossero metodologie nuove per analizzare le fonti ad esempio, ricostruire quindi tutto il percorso della ricerca che ha portato ai risultati con l'indicazione delle fonti e le testimonianze per ogni singola rotazione, conoscere il livello di apprendimento del singolo studio e quindi in sintesi poter riprendere la ricerca per miglioramenti e approfondimenti dallo stesso punto in cui è stata conclusa. Questa è una cosa molto importante per questo che viene definito il CFT una raccolta di studi più che un catalogo. Bene, ci sono anche gli effetti ambientali, 2300 descrizioni di effetti di varia natura relativi alle 200 sequenze sismiche, spaccature, frane, maremoti, liquipazioni eccetera. Gli effetti sull'ambiente tendono tra l'altro a ripresentarsi laddove si sono verificati in passato, quindi voi capite che lo studio del passato, anche questo tipo di effetti è molto importante perché ci permette un po' di capire cosa potrebbe succedere nel futuro. Vediamo ad esempio gli effetti, il terremoto dell'Emilia del 2012, li avrete visti tutti e questi sostanzialmente si tratta di un fenomeno fisico, c'è lo scuotimento in terreni granulari, porosi e saturi d'acqua, sostanzialmente mobilizza i granuli appunto della sabbia e la sabbia laddove riesce a trovare una via d'uscita fuoriesce dal terreno, ok? Attraverso pozzi si sono già costruiti oppure si apre diciamo l'asta formando delle spaccature. Ora ve l'ho spiegato molto in sintesi, però in grosso modo è questo. Vedete che gli effetti sono stati piuttosto eclatanti, ok? E io ho messo prevedibili col punto interrogativo, perché? Perché in realtà secondo me erano ben prevedibili, perché nella stessa area nel 1570 e non solo nel 1570 ci sono anche terremoti in aree un pochino più lontane che hanno fatto gli stessi effetti, vedete che nel catalogo dei forti terremoti sono archivate delle notizie per cui 1570, ricordo, l'apertura di fessure dalle quali uscì una schiuma nera e si apriva una voragine dal cui uscì sabbia bollente, in questo caso bollente non vuol dire calda ma che ribolliva, ok? Quindi gli effetti sono descritti, con la terminologia dell'epoca sicuramente non scientifica, c'erano scritti, il territorio è fondamentalmente quello, la distanza è molto breve, i terreni sono gli stessi, quindi le condizioni predisponenti sono le stesse, le condizioni geodinamiche sostanzialmente che le condizioni diciamo si trovano entrambe nell'arco ferrarese che sappiamo essere appunto una zona sismica che può dare terremoti di questa energia, ecco che le condizioni c'erano tutte, quindi il fenomeno era prevedibile leggendo il passato fondamentalmente. Ok, questo è solo un esempio dei tanti che vi potrei fare. Esiste un portale che si chiama CFT Lab e che raccoglie tutti diciamo un po' i dati che sono stati raccolti in questi anni di ricerche un po' collaterali fondamentalmente al CFT, ci sono vari strumenti che oggi non ho tempo di illustrarvi, alcuni specialistici altri che possono essere diciamo anche interessanti per il pubblico, uno in particolare è questo CFT Visual per cui perdo 5 minuti a descrivervelo e dopo può essere visto diciamo nell'intervallo che ci sarà dopo il coffee break, lì fuori abbiamo la possibilità di vederlo in un monitor touchscreen che vi permette di vederlo. Il portale è questo e io vi racconto che ovviamente nell'ambito delle ricerche che hanno portato al catalogo dei forti terremoti sono stati raccolte negli anni non solo delle fonti storiche scritte ma anche delle fonti iconografiche. Voi vedete per diversi terremoti, ho messo alcuni esempi di disegni nei casi dei terremoti più antichi per cui passare alle fotografie per i terremoti noti più recenti dalla metà dell'ottocento ad oggi. Vedete che anche nel bellunese, vedrete una presentazione specifica riguardo, sono state reperite delle immagini molto interessanti per noi. Peccato però non poterle esporre, abbiamo fatto anche, non solo abbiamo lavorato sulle nostre immagini ma anche su delle immagini di altri archivi nazionali e internazionali e sostanzialmente abbiamo pensato di raccogliere queste informazioni in una nuova banca dati dedicata specificamente a questo tipo di fonti storiche per noi, sono appunto quelle che abbiamo chiamato fonti visive. Grazie alla convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile e INGV e l'interesse particolare del Dipartimento della Protezione Civile a investire in un'operazione come questa è stato possibile creare accanto al database che ha necessitato per essere creato ovviamente della scansione, della riproduzione, della catalogazione, dell'archiviazione, geolocalizzazione di queste immagini, anche un'interfaccia di consultazione interattiva che permette appunto di vedere sul territorio come sono distribuiti queste ponti visive che rappresentano gli effetti fondamentalmente del terremoto. Ora, ok, questo magari lo saltiamo, diciamo che noi abbiamo che prima del terremoto abbiamo archiviato anche alcune foto prima del terremoto, questo perché? Perché è interessante vedere come erano un oggetto, questa è la cattedrale di Messina, abbiamo molte fotografie anche del portale, vedete, di come era, di come è stato rimaneggiato poi nel tempo e questo noi l'abbiamo archiviato e quindi abbiamo le foto del prima, del dopo il terremoto, della ricostruzione immediatamente post terremoto e in realtà riusciamo a recuperare anche una foto del 1783, non una foto scusate, un'incisione del 1783 in cui si vede che la chiesa aveva anche precedentemente un campanile ma insomma i danni erano questi, un altro terremoto aveva fatto danni molto gravi. Vediamo che poi non solo attraverso la nostra interfaccia è possibile vedere Google Street View e l'immagine di oggi, vedete che campanile poi è stato alla fine ricostruito, quindi nel 1783 era, dopo il 1908 è stato ricostruito. Quindi noi sostanzialmente possiamo un po' viaggiare nel tempo in questo senso e vedere un po' la storia di questi edifici anche nei casi fortunati in cui abbiamo tutta questa possibilità di ricostruire le immagini. Abbiamo la geolocalizzazione, la geolocalizzazione sulle foto aeree, abbiamo una sezione dedicata a soccorsi, risposta istituzionale, abbiamo il post emergenza, cioè dopo la fase emergenziale cominciano gli abbattimenti di ciò che non è recuperabile, fondamentalmente questo è un esempio vostro, immagini stereoscopiche possono essere viste in tre dimensioni, anche la fotografia già dagli anni 50 dell'Ottocento permetteva la stereoscopia. Ecco comunicazione del rischio, ecco su questo a me interessa perché io credo che noi possiamo sforzarci di comunicare meglio il rischio sismico a cui la popolazione è in una certa area esposta, giornate come quelle di oggi sono utilissime, si dicono tante cose, si raccontano, abbiamo però diverse possibilità perché ad esempio noi possiamo dire che la città di Belluno ha subito un certo grado di intudo, ci sono stati certi danni, possiamo dirvi questo, comunicarvelo, ma io credo che un conto, questo è l'esempio in realtà è di Rimini, ma è analogo, da un portale come questo voi potete accedere direttamente alla sintesi del CFT 5M e leggervi la descrizione di quello che è accaduto alla città nel dettaglio, quindi non solo un grado di intensità ma vedere proprio cos'è successo e leggersi cos'è crollato, cos'è diventato inagibile, quante persone purtroppo erano mancate, erano morte per il seguito di questo terremoto, ma soprattutto si può vedere direttamente la propria città come era ieri e come oggi, i luoghi che tutti noi viviamo quotidianamente, che cosa avevano subito, io credo che questo sia molto efficace a livello di comunicazione, molto di più di tante altre parole che poi si ascoltano ma poi rimane poco, l'impatto visivo chiaramente è un impatto secondo me notevole, quindi questo strumento anche in questo senso, noi utilizziamo anche, diciamo abbiamo visto che nei social network vengono pubblicati immagini, terremoti nel passato, siamo entrati in contatto con comunità di cittadini, comunità locali che ci hanno fornito alcune informazioni, abbiamo a Belluno delle geolocalizzazioni problematiche, noi non siamo ovviamente di questo territorio, io e i miei colleghi, un gruppo approfitto per dire multidisciplinare, ci sono geologi, matematici, fisici, storici ovviamente e informatici, quindi ok, nessuno di noi è di quest'area, non possiamo essere, conoscere tutta Italia e quindi alcune foto non riusciamo a collocarle, sono difficili da collocare, però siamo aperti, c'è scritto, al contributo di tutti, di tutti anche i cittadini che se riconoscessero per caso alcune di queste immagini, capisco che non sono semplici, ecco, possono, perfetto, io sono arrivato, possono contribuire fondamentalmente mandandoci notizie su questo. Ora l'Atlante quindi è indirizzato a un pubblico vasto, agli studiosi di varie discipline, sismologia, ingegneria ovviamente, che sono interessati, abbiamo preso dei contatti con degli ingegneri anche impiecenti, servono per la pianificazione urbana, possono servire alla scienza del restato, Mauro e in prospettiva della cinematografia perché ci stiamo aprendo anche al mondo dei filmati, ovviamente, che ci sono dei termoti del Novecento e ovviamente anche alla cittadinanza. Io vi posso dire che oggi quella che vedete di là è una versione un po' in anteprima che contiene più di duemila immagini, duemiladuecenti immagini, la versione attualmente pubblica è 1500 ma nei prossimi giorni verrà pubblicata quella da 2200, sostanzialmente la stiamo ancora un po' testando per voi in anteprima. Io sappiamo che andremo oltre 3000, quindi questo lavoro è un lavoro continuo, è un lavoro che ha richiesto anni, sono lavori, forse non ve l'ho passata la complessità del problema perché non c'era tempo, però sono lavori che richiedono tempo e che sono piuttosto complessi. Qualche possibilità di avere, diciamo, come dire, commesse errori di localizzazione o di attribuzione, ecco, possono essere corretti e noi ovviamente ci aspettiamo che chi conosce questo prodotto, lo scrive a macchiare lettere sul sito, possa darci anche una mano a renderlo migliore, insomma. Un prodotto per i cittadini che forse anche può ricevere qualcosa anche dai cittadini o magari da qualcuno che ci può fornire qualche foto, qualche immagine che noi non abbiamo recuperato, tanti possono averle in casa e ci è capitato anche questo. Io ho finito, penso di avervelo raccontato un po' come meglio potevo, ma al di là di raccontarlo, voi potete vederlo di là e consultarlo con l'aiuto di Graziano sicuramente dopo, più tardi. E niente, non ringraziamo Gabriele, lo lascio partire, mi erano abbattuto ovviamente, lui invece ha problemi di famiglia, non va a cena, insomma, era per scherzare. Sì, no, ecco, dopo, durante la pausa caffè, che è interessato, diciamo, mentre sguerano, beve qualcosa, posso mostrare le cose che peraltro potrete liberamente a casa prendendo dal QR code, cioè dal quadratino direttamente l'indirizzo, insomma. Sì, semplicemente qui se poi avete qualche curiosità, sapete che chiedere. No, perché lo strumento è abbastanza, sono abbastanza, diciamo, ricchi, non voglio dire complessi perché dà l'idea, diciamo, di inavvicinabili, sono articolati e ci sono tantissime possibilità che richiederebbero un mese d'ora o un'ora ciascuno. Sì, una cosa che non ho detto è che ovviamente questi sono prodotti che nascono da un contesto scientifico e che quindi, volendo veicolare delle informazioni un po' articolate, vedete, le informazioni sono tante associate ad ogni immagine, è un po' complesso, ma abbiamo cercato di veicolarlo nel modo più semplice possibile, più intuitivo possibile, cioè il mio suggerimento è voi cliccate, poi, insomma, non succede niente, non esplode e potete provare. Se provate un pochino, secondo me, è piuttosto intuitivo e si riesce a navigare abbastanza. Sì, anche perché il linguaggio è comprensibile a tutti, i contenuti sono multiutenza, quindi ciascuno prende quello che è in grado di comprendere, quello che è in grado di agitare utilità. Sì, c'è anche tanta parte scritta di descrizioni sintesi, ovviamente non occorre soffermarsi, si può leggere anche solo le didascalie. Sì, con linguaggio comunque è comprensibile a tutti, insomma. Ipertesti, livelli di approfondimento un po' diversi, ma insomma, ecco, potete sicuramente consultarlo, secondo me. Bene, mi presento da solo, adesso parlo io, Graziano Ferrari, il terremoto del 1873, le fonti, gli effetti e la risposta della scienza. Grazie a tutti. Questa immagine ho sintetizzato praticamente le fonti, gli effetti e la scienza sostanzialmente. Io parto con un'immagine forte, peraltro purtroppo vera. In Italia i terremoti continuano a consumare risorse economiche, culturali, vita umana e coesione sociale in misura sproporzionata rispetto all'eccellenza della nostra tradizione scientifica e tecnica. Allora, lo ribadisco con questa immagine drammatica che è relativa al terremoto del 1883 nell'isola Dischia. Considerate che nel 1881 e nel 1883 ci furono due terremoti distruttivi a Casa Micciola, quello che perette. Alle 4.38, ora locale, voi troverete spesso 3.38, comunque troverete spesso un'ora. Noi riferiamo il tempo di remoti al tempo universale, cioè quello del meridiano di Grignic, in modo tale che non possiamo confonderci. C'è un violentissimo terremoto che, come vedete, ha avuto i suoi effetti più distruttivi nell'Alpago, ebbe importanti effetti anche a Belluno. Qui è sintetizzata la distribuzione degli effetti su una scala più estesa, anche se non completamente, perché altrimenti veniva quasi inelgibile la mappa. La troverete però nel catalogo dei forti e terremoti in maniera completa, perché fu sentita anche molto più a est, molto più a sud e anche molto più a nord in area austriaca. Avevamo già visto, aveva già fatto vedere Gabriele Tarabusi il catalogo dei forti e terremoti. Vedete quei pallini a sinistra, di fianco ai nomi delle località, vuol dire che in corrispondenza delle qualità ci sono effetti ambientali che si sono verificati nella località, che possono essere sui terreni, sulle acque superficiali o profonde e così via. La bibliografia ne abbiamo già parlato. Vi racconto adesso che cosa c'è dietro le magnitudini, le intensità che spesso si vedono citare nei programmi televisivi, nei resoconti televisivi o radiofonici o anche sui giornali relativamente ai terremoti. I dati strumentali da cui noi traiamo le magnitudini dei terremoti vedete interessa un arco cronologico piccolissimo rispetto alle potenzialità di altre che possono, per esempio la sismologia storica che attinge alla documentazione scritta, alle testimonianze edite, pubblicate o manoscritte, vedremo di che tipo. L'archeologia che può andare un po' più indietro fino all'ordine di qualche migliaia di anni e addirittura la paleosismologia, che è una branca della geologia che consente di identificare tracce di dislocazioni, di movimenti, di faglie attraverso degli scavi che vengono fatti in particolare. Veniamo alla sismologia storica che è quella che contribuisce per lo più al noto catalogo dei forti terremoti, che è caratterizzata da diverse tipologie di fonti, di testimonianze. Per gli storici parlare di fonti è un tipo particolare di testimonianze, quindi io preferisco sempre parlare di testimonianze perché per esempio sono delle testimonianze che sono indirette, sono delle fonti indirette, cioè dei sentito dire e noi ne troviamo tanti, per esempio i giornali, i periodici e i giornali sono spesso delle fonti indirette. Abbiamo testimonianze personali, quindi dei diari, abbiamo testimonianze di tipo istituzionale, quindi gli interventi, le perizie, le perizie per esempio che venivano disposte da delle amministrazioni pubbliche per esentare dalle tasse o dilazionare le tasse a chi era danneggiato dal terremoto oppure per dare contributi per la realizzazione della ricostruzione o dei restauri. Poi c'è le testimonianze visuali, per esempio vedete c'è una perizia lì, c'è una perizia con un pezzo di un castello di Castrocaro per il terremoto del 1661 ai confini del Ducato di Toscana con lo stato della chiesa, abbiamo un bellissimo acquarello di un relativamente terremoto del 1783, insomma poi le fotografie e quant'altro. Quindi una ricchezza documentaria enorme che solo un paese come il nostro si può permettere perché così come abbiamo la più alta percentuale di beni culturali al mondo, arriviamo in Italia, anche dal punto di vista documentario abbiamo una documentazione straordinaria che ci consente di avere testimonianze non costruite ad hoc per la sismologia ma che noi con un po' di fantasia e con delle tecniche per utilizzare questi dati riusciamo a trasferire in dati scientifici attraverso per esempio le scale di intensità. La Mercalli-Cancani-Siberg è una delle tante azioni della Mercalli che si è evoluta nel tempo e attraverso i quali noi facciamo prima le mappe degli effetti interpretati e poi con dei programmi ad hoc con degli algoritmi determiniamo i parametri di magnitudo che non è dal dato strumentale ma attraverso delle relazioni che noi costruiamo fra terremoti registrati strumentalmente e relative intensità epicentrali o nelle sue località, costruiamo queste relazioni che poi utilizziamo per andare indietro nel tempo e avere un catalogo relativamente esteso con le magnitudo dei terremoti perché attenzione è importantissimo, discipline come la sismologia che si sviluppano su tempi storici anche molto lunghi voi sentite parlare di terremoti ogni 30 anni, 40 anni, 50 anni ma non è lo stesso terremoto che si ripete sono strutture estremamente complesse dove a occhio nudo sembra che avvengano sulla stessa faglia ma in realtà sono terremoti che avvengono ogni 500, 600, 1000 anni però essendo tante faglie tra di loro molto vicine il fatto che si muovano tra di loro ogni 500 anni poi alla fine se sono 10 ogni 50 anni noi abbiamo un terremoto l'ho detta un po' diciamo tagliando un po' l'ingrossa cosa diciamo senza molto andiamo a un tipo di stimolianza straordinaria che è la cronachistica privata come in questo caso quello di Antonio Maresio Vazzolo per quasi 50 anni della sua vita non ha raccontato la sua vita personale o almeno non solo quella ma ha raccontato la storia di Belluno e fra queste c'è anche la testimonianza del terremoto del 1873 che nel volumetto che avete visto fuori da qui è stato estratte praticamente dal marzo del 1873 fino a tutto il 1875 con molta pazienza Orietta Cener ha selezionato e trascritto le parti che sono relative al terremoto potrebbero prendere uno di quei volumetti o anche scaricarvelo in pdf dal quadratino, dal QR code che troverete là. Qui lui racconta diciamo i primi eventi, i primi momenti del terremoto e come diciamo il primo istinto della moglie ma forse anche il suo fu quello di raccomandarsi alla Madonna sostanzialmente e volevo dirvi che non solo, cioè purtroppo fino anche a pochi anni fa è successo diciamo di raccomandarsi di avere una visione mogolica del terremoto in chiave religiosa ma in passato per le stazioni che voi avete, quei fanghi che sono usciti nel terremoto dell'Emilia lo sprofondamento di case che diciamo se gli mancava la terra sotto i piedi, sotto le basi diciamo sprofondavano, sono stati vissuti spesso in chiave simbolica come castigo divino cosa invece che non è, è anche la chiesa diciamo molto recentemente, ricordo diciamo l'intervento del vescovo di Rieti in occasione del funerale delle vittime del terremoto del 2016 Centro dell'Italia che ricordò come il terremoto non uccide, uccidono le opere dell'uomo e qui ecco, qui c'è un po' di scienza che comincia a venire fuori perché questo è una tabella che è nel lavoro di Alexander Bittner, un austriaco, un giovane geologo austriaco mandato da un più nobile scienziato del tempo che era Edward Suez a studiare questo terremoto con la convinzione di poterne entrare informazioni sulla origine quindi la localizzazione, quello che noi oggi chiameremmo epicente che all'epoca non si chiamava come tale quindi qui c'è una sintesi degli effetti dei croli che io poi ho però più comodamente più immediatamente rappresentato in grafico come vedete diciamo in azione fra l'Azzurro e l'Ocra ci dà l'idea della somma di case distrutte o da abbattere e come vedete nell'Alpago, Pieve d'Alpago, Chiers e Puos sono quelle e anche la stessa Fara sono quelle o anche le Tambre sono quelle più colpite la risposta istituzionale e private, molte località si raccolsero fondi ci furono promosse visite delle autorità provinciali e locale per monitorare la situazione furono inviati soldati, carnieri per morire le macelle la cosa curiosa è che come se anche all'epoca ci fosse nato un super bonus si faceva fatica a trovare i materiali, cioè il legname per puntellare e in alcune fotografie nell'Atlante delle fonti visive di terremoti italiani qualcosa vi farò vedere anch'io, vedete diversi di questi puntelli probabilmente molti meno di quelli che sarebbero stati necessari e che non si provavano vi rifaccio vedere rapidamente l'Atlante visuale dove abbiamo geolocalizzato non è stato banale questo in alcuni casi sì, in altri meno anche stamattina abbiamo identificato una fotografia del terremoto del 1936 con grande precisione mentre prima era molto più incerto perché tenete conto che noi non lavoriamo solo sul bellunese noi lavoriamo dalle Alpi fino alla Sicilia e non sempre abbiamo le risorse umane ed economiche per girare l'Italia a riconoscimento quindi benvenga, diciamo, senza volercene che i cittadini bellunesi o dell'Alpago ci diranno la mano nell'identificazione di zone questo è l'ufficio postale e qui siamo in Piazza Castello qui a sinistra che la faccio verso l'abside di San Martino ecco qui una cosa, vi faccio vedere un caso emblematico e cioè questa è la chiesa di San Bartolomeo di Puos e questo è un altro edificio che noi non sapevamo dove localizzare Puos dice non è molto grande però quando le case sono più o meno all'epoca tutte uguali andarle a riconoscere oggi che sono tutte diverse non è banale e qui ci ha aiutato per lo straordinario documentarista come pittore che è Alessandro Seffer perché, vedete, ci mette i edifici nello stesso quadro a quel punto il sospetto più che un sospetto è che lui stesso abbia commissionato ad Angelo Simoni le fotografie anche perché attenzione che questo è il terzo più antico terremoto documentato a fotografia il primo è quello del 1857 della Basilicata secondo 1859 Norcia terzo questo 1873 e attenzione che siamo ai primordi della fotografia in Italia e molti pittori si lamentavano del fatto che la fotografia gli può tagliare il lavoro quindi pittori si, diciamo anche i fotografi quindi una volta facevano la fotografia e una volta facevano quindi i due settori quando anche non fosse lo stesso a realizzare quadri e fotografie però erano settori abbastanza in osmosi fra di loro e quindi non è stato possibile a questo punto, vedete, localizzare con quei due pallini verdi rispettivamente l'edificio alla destra della chiesa di San Bartolomeo oltre alla chiesa stessa qui questo straordinario dipinto sempre di sette che noi abbiamo bruttamente utilizzato per l'iconografia di questo convegno di queste due giornate e a fianco c'è la trascrizione della parte del Basol che parla proprio di questo evento che avviene che inizia diciamo nell'aprile maggio del aprile giugno del 1874 e diciamo la firma del di Seffere proprio 24 giugno 1874 quindi lui dipinge questa visione questa demolizione della torre civica esattamente un anno dopo il terremoto e qui invece la scienza ci aiuta a localizzare gli effetti dal suo punto di vista mentre mentre questo scienziato di cui vi ho accennato prima cioè Alexander Bickner era interessato a localizzare a vedere le direzioni di caduta o le direzioni prevalenti diciamo secondo lui della provenienza del terremoto per noi è importante per localizzare gli effetti e vedete quei pallini colorati li ha fatti lui e noi ci abbiamo sovrapposto le fotografie che noi la localizzazione delle fotografie che noi abbiamo e in più riusciamo a far dialogare questi due prodotti il nostro e il suo perché lui localizza vedete qua degli effetti particolari c'è le fessure azioni orizzontali in questo dietro diciamo vicino alla chiesa di Santo Stefano e nella fotografia noi abbiamo identificato lo stesso edificio qui dietro ma le stesse fessure orizzontali le possiamo vedere grandemente puntellato quindi noi facciamo questo lavoro facciamo dialogare diverse testimonianze alla ricerca quindi è anche un lavoro molto artigianale certosino che richiede anche molta fantasia non nell'inventare naturalmente ma nel quando vi ho detto che noi abbiamo una grandissima tradizione su questo dovrò scorrere se no mi dovrò bacchettare da solo per i tempi non mantenuti 1731 il primo esperimento scientificamente testimoniato da una rivista internazionale la registrazione di un terremoto con un pendolo che scriveva su della sabbia attenzione un terremoto in più punti quindi dando l'idea già di una rete di una rete diciamo è questo Nicola Cirillo nel 1700 pubblica sul transaction della Radio Society di Londra che era all'epoca la più importante accademia scientifica al mondo quindi questa è la data post-quem noi diciamo rispetto a cui è iniziata la storia la vicenda ed è riconosciuto in tutto il mondo in tutta la letteratura sismologica mondiale 1751 sempre dei pendoli poi 5 telemoti altamente distruttivi in calare l'arco di meno di due mesi che sconvolse il paesaggio e qui sono inventati diversi strumenti molto curiosi di travaso di mercurio o di oscillazione di pendoli che scrivevano come si diceva sempre sulla qui c'erano delle animazioni che non si vedono ma comunque era più così effetti speciali nel 1841 viene portata la prima pietra dell'osservatorio vesuviano di Napoli il primo osservatorio geodinamico al mondo e nel 43 entra in funzione Leopoldo Pilla 1846 ci avviciniamo lentamente introduce intanto è considerato il padre ma lui diciamo fa tutta una serie di osservazioni importanti così come per esempio che terreni diversi rispondono diversamente a terremoti e quindi danno per edifici uguali risposte ed effetti diversi anche molto più gravi così come mostra l'esistenza di questi vulcanetti di fango che sono l'equivalente di quello che avete visto a Sant'Agostino nel Ferrarese per il terremoto dell'Emilia ecco Robert Mallet nel 1857 con un finanziamento della Royce Society di Londra viene in Italia a studiare un laboratorio naturale dove applicare la sua teoria della dinamica dei terremoti secondo lui che immaginava che le onde sismiche fossero tutte come le onde diciamo nell'acqua quindi che si propagassero come le onde sonore solo che oscillassero lungo la direzione di propagazione come delle onde longitudinali immaginò che la caduta di oggetti di muri la rotazione di quadri all'interno di edifici individuasse delle direzioni che intersecate tra di loro potevano dare l'epicente quindi questo dà il via a tutta una serie di studi a cui si accodarono abbiamo detto il Bitler lo stesso Pirona Taramelli e altri studiosi stranieri che vennero in Italia con questo obiettivo quindi al di là del valore delle determinazioni che loro fanno peraltro diciamo non mappate non diciamo perché poi trovarono anche molta confusione in realtà al di là di quello comunque ci restituiscono delle informazioni che non erano nelle loro intenzioni perché sono utili per noi qui abbiamo il più importante e straordinario strumento che si è mai stato progiutato in epoca storica che è il sismografo elettromagnetico di Palmieri lo strumento che se facciamo un paragone oggi dovrebbe costare 2 milioni di euro insomma quindi che non si poteva permettere nessuno degli osservatori privati e pubblici all'epoca questo è il viaggio di Mallet lui commissiona diciamo dopo aver visto le fotografie del terremoto fatte da un fotografo francese che aveva preso l'iniziativa di fotografare e di vendere a fini diciamo di sostegno delle popolazioni le sue fotografie quindi nasce il primo reportage fotografico al mondo di un terremoto a cui si accoda Mallet perché ne commissiona un ulteriore vedete lui disegna le direzioni e qui dà il via a tutto questo seguito di studiosi che vogliono seguire il suo metodo questa diciamo è la mappa di Mallet con la sovrapposizione di considerazioni più recenti fatti dal collega fra gli altri Pierfrancesco Burrato che ha consentito di identificare che questo terremoto non erano solo ma erano due e fortunatamente questa fra l'altro la parte più a nord a nord ovest la parte più in alto diciamo fra queste due rettangoli a identificare una sorgente sismogenetica che ha chiuso un buco pericolosissimo perché non era pensabile che ci fosse una zona sismica e il fatto che in 2500 anni di storia sismica non ci fosse stato documentato un terremoto lì faceva immaginare che è un terremoto che poteva accadere dopo 2500 3000 anni quindi più il tempo di accumulo di energia è più grande il terremoto quindi poteva far sospettare o regimi se sbaglio una maltudo superiore a qualsiasi altra magnitudo che noi si sia diciamo registrata qui Baitner ci dà delle tavole diciamo con i suoi obiettivi per noi è molto importante lui infatti vedete cita Mallet espressamente dice uso di Mallet però è importante perché a parte qualcosa che lui fa per Belluno ma ci restituisce diciamo dell'iconografia e dei meccanismi di danno di località del territorio dove altrimenti avremmo solo le fotografie di Puos bellissime fondamentali ma per noi è importante anche avere il disegno avere la rappresentazione iconografica perché ci consente di imparare diciamo la versione l'enfasi con cui a volte le testimonianze possono diciamo eccedere la reale dimensione del fenomeno queste diciamo sono testimonianze sempre scientifiche che ci danno ci consentono di ricostruire la cronologia delle repliche del terremoto fondamentale perché si delineano anche il tipo di meccanismo il tipo di terremoto in particolare per terremoti storici dove non abbiamo i dati strumentali che ci danno altre informazioni questi sono tre degli scienziati che sono intervenuti diciamo il Paolo Gorini italiano e i due stranieri Falve e Bitner già citato e poi i famosi Pirona e Taramelli con i loro disegni anche queste ecco le considerazioni conclusive mi richiamo soprattutto a quelli di Pirona e Taramelli in cui ci sono due elementi fondamentali che hanno una validità ancora oggi la differenza nell'intensità del movimento sismico in siti prossimi ed attribuirsi in parte la differenza coesione del suolo superficiale ed in particolare l'interferenza fra le onde dirette e le onde riflesse e oltre che la cattiva costruzione degli edifici ha contribuito grandemente a rendere molto più grave il disastro cioè molti di queste case erano costruite con pietramine naturale raramente squadrato quindi a volte anche arrotondato e poi il cemento dice guardi io non c'ero quindi c'era terra magari un po' di calce per legare la terra insomma diciamo sempre alcune immagini effetti ambientali per esempio importanti abbiamo in parecchi paesi abbiamo per esempio nel Campedale quindi l'attuale piazza dei Martiri ci fu una sono terreni sedimentari in cui questa non è come spaccare una roccia quindi questo è molto facile sono compattazioni sono fenomeni diciamo che i geologi conoscono molto bene oppure frane quindi cadute di treni o anche di roccia sprofondamente torvagini che si sono formati per esempio alla vina di sopra oppure nelle acque compasse e scompasse rienti intorbidamento di soggenti e così io ho riassunto qui ma sono tutte informazioni che voi trovate alla voce terremoto del 1873 nel catalogo dei forti terremoti senza del tempo nel 1870 un padre Barnabita a Firenze comincia a osservare piccoli spontanei movimenti del suolo e apre un settore che all'epoca fu chiamato quello della microseismologia nasce in collaborazione con diversi studiosi il primo strumento standardizzato che era un periodo osservato tre volte al giorno a occhio e che diciamo da 74 all'88 vide la nascita di circa 50 punti di osservazione in Italia spontanei coordinati sotto questa rivista che è il bullettino del vulcanismo la prima rivista geodinamica al mondo fondata da Michele Stefano De Rossi il fondatore dell'archeologia cristiana scusate il fratello del fondatore dell'archeologia cristiana quindi strumenti anche curiosi avvisatori sismici si chiudevano dei contatti elettrici quando c'era un terremoto e suonava un campanello per poi nascere strumenti molto più complessi a registrazione questo è il primo strumento che registra tre componenti del moto sismico al mondo due orizzontali e una verticale e poi siccome si ipotizzavano movimenti vorticosi anche questo vedete questo manubrio però non registra mai niente perché in realtà i movimenti vorticosi non esistono sono semplicemente coppie di forze quando c'è un perno in mezzo attorno al quale può ruotare il tutto sempre Filippo Cecchi il padre scolocchio che ha inventato quello strumento per primo al mondo inventò anche la registrazione a rullo quindi con lo strumento quello che vedete sulla destra ha tre componenti sul rullo che è l'osservatorio Ximiliano dove ancora sopravvivono tutti i prototipi vado rapidamente nel 1884 nasce la commissione geodinamica italiana finalmente lo stato italiano riconosce che è noto è un paese sismico e che è giusto che ci sia un'istituzione scientifica che se ne occupi viene commissionato uno studio a Taramelli e a Mercalli vedete tutte queste linee sono le linee del metodo di Malle per localizzare l'epicentro del terremoto del 1887 in Liguria e sempre Taramelli questo per sottolineare l'importanza di chi ha studiato il terremoto qui Taramelli è chiamato a realizzare la prima cata sismica istituzionale italiana è dichiarata nel 1886 ma pubblicata cioè resa pubblica stampata nel 1888 quindi quando qualcuno vi racconta che sono pochi anni che abbiamo una carta sismica non vi fate prendere in giro in realtà sono 130 anni e molti dei quali li abbiamo perduti in termini di vita umane in tipo di risorse economiche in chiave di beni culturali chiudo sempre le mie presentazioni negli ultimi due anni ho fatto più di 70 lezioni nelle scuole di Bologna e io chiudo sempre con i ragazzi perché è da loro che prevalentemente bisogna cominciare chiudo sempre dicendo che noi abbiamo siamo in quattro ad avere siamo in quattro i protagonisti della nostra sicurezza i ricercatori che studiano approfondiscono migliorano le conoscenze migliorano queste carte sismiche la politica quella nazionale ovviamente voi siete degli esecutori spesso chiamati le forze giuste capito a intervenire e eseguire la politica che deve recepire anche le modifiche continue che noi facciamo questi dati poi i tecnici ieri l'ho richiamato negli ordini professionali ho richiamato la responsabilità ovviamente dei tecnici ad applicare correttamente queste regole però raccomando sempre un'attenzione anche da parte di chi poi è spesso vittima perché smetta di essere vittima dei terremoti e cioè una responsabilità individuale tra di noi magari lo dico per lo più per gli uomini perché raramente ho visto una donna diciamo infervorarsi contro Mancini o contro Sario contro qualche cioè siamo tutti bravissimi a criticare i coach del basket gli allenatori del calcio eccetera cerchiamo di essere un po' esperti anche della nostra sicurezza va bene poi tante volte è capitato ma senti perché non metti due soldi nella sicurezza sismica ma sai mi sa quando verrà il terremoto magari io sono anche anziano però poi pensando che la cosa sia poco probabile poi paradossalmente magari non tutti però molti di questi due volte alla settimana vanno a giocare su perenalotto quando c'è la probabilità di uno sui 600 milioni di vincere io credo che sia più probabile rimanere sotto la capa per casa o comunque subire dei danni da terremoti io ho finito qui vi ringrazio molto scusate se mi sono un po' allungato e chiamerei Orietta Cener a dare seguito è Torietta che trovo eh posso trovare che Francesco mi ha lasciato un attimo solo allora eccola qua a posto adesso tocca a te ti capisci il solito cinque limiti ah no guarda eh buonasera a tutti eh l'evento sismico del quale parliamo oggi che colpì il bellunese e la città di Belluno il 29 agosto 1873 150 anni fa quindi ha dato vita presso l'archivio storico del comune di Belluno ad una serie archivistica propria eh costituita da una quarantina di pezzi tra buste e registri per un totale grosso modo di due metri lineari sullo scaffale e che appunto documentano la storia passo dall'accadimento e per circa tre anni successivi comprendendo soprattutto la ricostruzione è chiaro che l'archivio del comune di Belluno conserva anche altro materiale prodotto dal comune di Belluno a decorrere dal 1378 arriviamo fino a un quarantennio eh trascorso e naturalmente sulla base delle competenze sempre ehm svolte dal comune ecco ci sono moltissimi atti deliberativi nei quali ci sono altre notiziole altre informazioni eh su delibere prese proprio in occasione di scosse telluriche e tutto questo lo trovate anche nell'Atlante nell'Atlante del quale vi abbiamo parlato in precedenza comunque tornando a noi oltre a questa quarantina di pezzi è corredata da alcune stampe fotografiche di questi anni pionieristici una parte era già al museo presso il quale del resto si trovava originariamente anche l'archivio storico ed un'altra frutto di una recente graziosa donazione di Stefano De Vecchi che approfitto qui per ringraziare anche a nome del comune di Belluno mio personale anche che appunto sono come ha messo ben in evidenza il dottor Ferrari sono proprio molto importanti e sono confluite nell'atlante visuale dell'ingv che voi potete vedere all'esterno allora procediamo no ma non è questo non è questo non è questo mi dispiace comunque allora appunto le fotografie sono queste appunto che sono proprio le prime fotografie sono qui state raccolte sono quelle scattate da questo Angelo Simoni che è vissuto a Belluno dal 1830 e che questo insieme è stato composto probabilmente non sappiamo non sappiamo in dettaglio il perché da un altro fotografo di Belluno importantissimo del quale abbiamo acquisito anche le fotografie 17-18 che si chiamava Pietro Decian che è nato nel 1873 proprio l'anno del terremoto ed è morto nel 1927 e sono qui tutte raccolte queste non sono tutte ma insomma ci sono molti scorci di Belluno che rivedremo anche più avanti appunto per ricordare questa scorsa terribile come si parlava prima anche Antonio Maresio Bazzolle ha raccontato tutta la vicenda dell'impatto sulla popolazione e anche sul governo cittadino del terremoto e tutti l'hanno fatti per ripristinare la città e un giornale francese ha pubblicato parecchie cioè un articolo molte pagine ha dedicato a questo Tramblement di Belluno del 1873 e abbiamo utilizzato questa immagine perché è come succede anche adesso la prima cosa che si fa si va all'aperto e questi sono i poveretti che hanno perso la dimora o che è stata danneggiata quindi questi primi momenti e si è appunto attivata sia la prefettura che il municipio che il genio civile il procuratore del re le truppe e altri uffici e si sono installati proprio in questa piazza e nella piazza principale della città quella della nuova città ottocentesca e appunto e sono qui e qui si è ricordato anche l'impatto che il terremoto ha avuto nelle frazioni delle quali però non abbiamo documentazione Bisome è stata ha dato anche un tributo di morti mi pare due e molte case lesionate e per non tacere dell'alpago appunto del quale appunto avete già visto le fotografie qui ci sono i dati sulla sulla città dei quali vi ha parlato anche il dottor Ferrari queste sono altre due fotografie questo è diciamo così la cartina territoriale con i confini del comune di Belluno l'ho messa perché serve per dare un'idea almeno della popolazione oltretutto questa risale al 1905 ed è decisamente cresciuta perché ci sono circa 5 mila unità in più insomma per darvi l'idea ecco che con il terremoto non è che si è fermata la vita in città ecco la cosa che di questa documentazione è composta anche e soprattutto di delibere del consiglio noi quindi vediamo un avviso nel quale appunto si sollecita la popolazione a a farsi parte diligente per aiutare con cittadini in questo momento difficile e questo è diciamo così l'indice delle liberazioni che sono state prese proprio alla voce terremoto quindi ecco c'era questa giunta cittadina con facente funzioni Luigi Agosti perché era un momento diciamo così un po' difficile per soprattutto per le finanze comunali perché avevano dovuto affrontare negli genti spese di ricostruzione del ponte eterna storia di Belluno il ponte sul Piave che era un terremoto mi parla nel 1872 sempre tramite acquisizione di accessione di e quindi c'era situazione che non consentiva al comune di sovvenzionare gratuitamente i suoi cittadini e io ho messo un po' di nomi di assenso sottolineiamo però che il grosso della documentazione è costituito da che cosa da conti sono contabilità di materiali che sono stati forniti ai cittadini per risanare le abitazioni e allora si è costituito quasi subito una commissione che doveva giudicare che doveva raccogliere e osservare si muovere degli oni a queste richieste di sussidio e pronunciarsi sull'entità dei rimborsi e se ne sono conservate ben 552 che permettono permetterebbero di se studiate di risalire anche al tipo di danni e sono già state utilizzate in questi due anni perché mi sono dimenticata di dirvi ma con il dottor Ferrari ci frequentiamo ormai da tre anni e prima al telefono c'era il covid poi c'è stata questa sono venuti e hanno digitalizzato tutte le abitazioni della città e in queste poi le ditte che presentavano richiesta di rimborsio mettevano non solo i danni delle case in città ma anche delle case che avevano degli altri edifici delle altre proprietà nel circondario comunale e c'era possibilità di avere un rimborso per diciamo così lesioni allo svolgimento della propria attività questa che avete visto prima appunto ve la faccio rivedere perché vorrei sottolineare l'edificio sulla sinistra che è la sede dell'ufficio tecnico dove è l'ufficio tecnico e che era completamente diversa adesso l'hanno pure ultimamente pure rimanci hanno fatto degli interventi al tetto ecco comunque la sede del telegrafo era a fianco e non 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 ho la fotografia ma credetemi la sede a fianco del dove c'era il telegrafo non è stata ricostruita che dopo negli anni dieci del novecento quindi proprio sì appunto allora i danni maggiori ecco io sottolineo mi piace sottolineare perché le comunità si sono in questo periodo e diciamo si si chiudono attorno alla chiesa al luogo di culto anche nei paesi molte molte chiese sono state lesionate ecco questo è sono le fotografie che sono servite per raccogliere scattate sempre dall'angelo simoni scattate per raccogliere fondi per restaurare il duomo e nel libretto o anche scassione qualcosa le memorie di gli annali di Bazzolle si dedicano molte 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 righe a questa ricostruzione del duomo che è avvenuta su progetto di Giuseppe Segusini ed è stato sì era crollata tutta l'abside si vede ha avuto anche un crollo in due tempi anche questo è raccontato ma non 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 vi voglio togliere il gusto di leggerlo e comunque ecco lo Stato probabilmente il comune aveva escluso completamente i rimborsi alle chiese e io suppongo ci sia anche da pensare alla storia perché siamo nel 1873 ed è da poco la breccia di Portapia è di poco tempo prima ecco per quanto riguarda gli arredi delle chiese Osvaldo e consigliere comunale in quel periodo uomo di cultura e futuro ispettore onorario della commissione provinciale scavi e monumenti della provincia di Belluno nonché organizzatore primo organizzatore del museo civico coadiuvato dal falegname Gaetano e dal valente intagliatore nonché Garibaldino Antonio Conserotti fu incaricato di mettere in salvo gli oggetti d'arte del Duomo delle chiesuole di San Martino delle grazie delle sale municipali compresa la collezione Giampiccoli che era stata legata nel 1872 cioè un anno prima ricoverando le inapposite casse con inventario nella chiesa di San Rocco quindi c'era proprio questa tutela per i beni e culturali di Belluno le reliquie più antiche che erano conservate nella nella chiesa proprio nella nel si era anche costituito un comitato di soccorso per i danneggiati del terremoto diciamo così i sussidi in in termini in lire italiane e appunto per distribuirli anche questi e appunto come avevo detto venne nominata una commissione tecnica per i lavori di riatto dei fabbricati della città e la sicurezza pubblica diretta dall'ingegnere Giorgio Paganicesa Gregorio detto Giorgio specifica il bazolle Paganicesa nipote di Papa Gregorio XVI con pieni poteri e svincolato dalle forme che convengono ai tempi normali quindi proprio una legislazione che c'è un modo una legislazione un provvedimento che ci ricorda molto quelli proprio assunti anche adesso in emergenza i commissari straordinari appunto per le enormi difficoltà di pronte soluzioni di rapida dice libera azione con facoltà illimitate gli altri ingegneri componenti perché erano tutti ingegneri quindi proprio una commissione tecnica il conte Matteo Miari il nobile Francesco Doglioni già deputato al Parlamento d'Italia nella nonna legislatura con l'assistente Fanta il nobile Carlo Augusto e Luigi Friggimelica Antonio Frezza Giuseppe dei Liberali tutti o del genio civile o della deputazione provinciale il grande apporto appunto tecnico fu dato dal genio civile e dalla prefettura come sarebbe adesso tutti i cittadini devono essere risarciti per i danni agli edifici ai mobili alle masserizie o all'esercizio dell'attività professionale purché residenti nel comune per ottenere il sussidio quindi dovevano presentare queste schede faccio vedere un attimo ancora i danni alla città questa è sulla di Sant'Andrea Inter Ecclesias o delle Grazie che sorgeva all'imbocco dell'attuale via Sant'Andrea dove attualmente c'è il parcheggio davanti al palazzo io lo chiamo Littorio il palazzo della provincia che fu demolita come racconta Bazzolle una parte delle tavolette votive che ne ornavano le pareti furono recuperate raccolte e portate al museo civico perché la sì appunto perché c'era stato un certo disinteresse da parte della chiesa per recuperare queste della parte del clero per recuperare queste tavolette e che poi la chiesa fu demolita e racconta il Bazzolle non vi porto via il la bellezza della lettura inopinatamente si potrebbe dire i disastri maggiori si ebbero appunto nel centro storico come vedete in questa è la casa casa Pagani Pagani Mondo in piazza Duomo dove adesso c'è un condominio nuovo degli anni 70 e a fianco c'è la chiesa il Battistero insomma ecco e che poi questa questa casa è stata colpita nuovamente dal terremoto del 1836 nel 1906 e le fotografie ci sono anche le fotografie di questo parleremo dopo la fotografia di sotto è via Borgo Garibaldi l'attuale via Garibaldi e appunto il comune sottoscrisse un debito e anticipò ai privati le somme per risanare per porre su quasi nel più possibile risolvere il problema delle abitazioni e che con dando appunto dei garantiti da ipoteche sugli edifici oppure appunto con altre forme di garanzia e queste dovevano essere restituiti nel giro di nove anni ecco la ricostruzione fu un'ottima prova di banco per l'ufficio tecnico municipale che non era ancora costituito perché si avvalevano da un carico a un ingegnere per un paio d'anni ma non c'era un organico vero e proprio e tra l'altro vabbè era striminzito che appunto fu incaricato di regolare e tenere l'amministrazione dei materiali da costruzione la mano d'opera quindi ci sono tutte queste annotazioni in questi registri che sono pervenuti proprio giorno per giorno tutti i nominativi non dico ora per ora ma anche il tipo di materiali fornitori per esempio i legnami mi viene in mente che li avevano acquistati dal De Manzoni e altre cose di Talazaris i capimastri municipali qui ho messo anche i nomi i custodi dei legnami e delle tegole perché appunto c'era questo discorso di salvaguardare proprio di tenere una contabilità precisa perché dovevano rendere conto a se stessi oltretutto e soprattutto per le condizioni del bilancio che era davvero deficit nella fotografia nella fotografia si vede vecchio episcopio che noi adesso chiamiamo auditorium del quale è crollata la facciata e risulta così anche dai sondaggi e dalle riveli che ha fatto l'architetto Gloria Manera il soffitto è stato proprio puntellato e dice che dalla fotografia si vede dietro che è tenuto su proprio con i pelli e il precedente in precedenza era non era del comune ma era dell'economato generale dei benefici vacanti e fu acquisito e risanato a spese del comune che lo destinò poi a corte d'assise quindi questo possiamo dire è un primo cambiamento alla città questo è una scheda non è possibile ecco questi sono i manifesti che danno conto delle cifre vabbè questa è la scheda del comune perché ha anche inventato la sua scheda appunto per l'importare dei rimborsi e questa è l'altra operazione che ha cambiato la città insieme alla demolizione della chiesa questo è Pauristi proprietà del comune che acquisisce graziosamente donato da Giovanni Antonio Manzoni una casa che dava sul vicolo Tis e appunto e ne fa poi il museo civico ecco questa è la scheda che io preferisco perché mi permette di far vedere cosa c'è effettivamente come si può fare come si può giocare con le fonti dell'archivio storico in questo caso noi abbiamo la casa Palazzo Corte o casa Bassanello come lo chiamano nelle carte che è quella che è davanti al Duomo con i danni del 873 questa è l'ala che dà sull'auditorium sul resto della piazza questa è la scheda di denuncia dei danni presentata questo è poi il progetto la domanda di licenza edilizia ed il progetto costruire la casa e questi sono i due pareri rilasciati da due ministri della commissione ornato Giuseppe Segusini e Alessandro Seffer e questa è la licenza di costruzione rilasciata ecco ci piace ulteriormente segnalare la figura di Osvaldo Monti che durante la durante la ricostruzione dei pieni poteri ebbe a dire la giunta si era evaguita dell'idea di far sorgere dalle rovine una più leggiata a Belluno tramutando a miglior sede i malconci penati ecco operazione che è riuscita in pare o meno non si sa come no in parte diciamo in parte sicuramente in parte perché Belluno poi sostanzialmente è rimasta quasi uguale in sostanza ecco si provvede poi nel 76 a fare un nuovo regolamento edilizio e che però ecco è questo qui e secondo me non bisogna meriterebbe maggiore attenzione e si continuò con favola che è la zona dietro a Campitello cioè dietro a Piazza dei Martiri attuale via Caffi e fino alla collina della Vignetta dove poi costruirono non solo edifici privati ma anche la stazione ferroviaria e la scuola tecnica e soprattutto per la quale fu emanato il piano regolatore del 1900 ecco io io qui avrei terminato però volevo sottolineare che l'altro terremoto è a distanza di pochi anni e le lesioni evidentemente perché la torre civica fu di nuovo e cambiarono perché la ricostruirono non ho la fotografia qui ma la ricostruirono merlata non come adesso adesso sarebbe la situazione prima del terremoto del 73 per cui ha colpito di nuovo gli stessi luoghi e la documentazione c'è e aspetto l'INGV per fare una cosa sul terremoto organizziamo qualcos'altro sul terremoto per il 150 15esimo no il 150 no però cintesimo o no grazie 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 la invito il collega Pierfrancesco Burrato Buonasera, dopo tutte queste presentazioni prevalentemente di taglio storico sugli archivi dell'INGV, vi porto il punto di vista di un geologo. Io sono un geologo, lavoro all'INGV da anni e mi occupo dello studio delle faglie che generano i terremoti, faglie che in gergo noi chiamiamo faglie sismogenetiche. Non presenterò nulla di specifico sulla faglia sorgente del terremoto del 1873, ma approcci generali che utilizziamo per identificare le faglie in Italia ma anche in altre parti del mondo. Innanzitutto, che cos'è una faglia sismogenetica? È una faglia attiva, cioè che si muove nel campo di sforzi che attualmente è attivo in Italia. Diciamo che dobbiamo fare un attimo un passo indietro e pensare a quello che succede globalmente sulla superficie terrestre e pensare, spero che abbiate qualche nozione a riguardo, alla tettonica delle placche. L'Italia si trova al confine fra due grandi placche, placca eurasiatica a nord e placca africana a sud e queste due placche convergono fra di loro, si stanno scontrando. A causa di questo scontro si sono sollevate le catene degli Appennini e delle Alpi e a causa del continuo lento movimento fra queste due placche, nella crosta terrestre, per cui nei primi 20-25 km dalla superficie terrestre, si accumulano degli sforzi. Questi sforzi portano a un certo punto a rompere le rocce e nel momento in cui le rocce si rompono si generano i terremoti. Le rocce si rompono lungo delle difrattura che stanno in profondità che si chiamano faglie. Le faglie attive sono delle faglie che continuano a muoversi perché Africa e Europa continuano a convergere fra di loro. In Italia abbiamo delle faglie attive, queste sono indicate al numero uno, che si sono generate quando Africa e Europa hanno iniziato a convergere fra di loro, però esistono anche delle faglie molto più antiche che erano presenti prima che Africa e Europa cominciassero a convergere e che poi sono state riattivate, per cui si sono rimobilizzate a causa di questo scontro. Per cui faglie sismogenetiche sono faglie attive, sono guidate dal movimento delle placche e loro si possono muovere con queste tipologie. Questo diagramma sulla destra, sull'asse orizzontale c'è il tempo, sull'asse verticale c'è l'accumulo di deformazione e ci sono alcune di queste faglie attive che si muovono praticamente in maniera continua, non generando terremoti e sono rappresentate da questa linea orizzontale, oppure altre che si muovono in maniera quasi continua, costante, facendo piccolissimi terremoti. Ora, queste due tipologie di faglie attive a noi non ci interessano, perché non generano terremoti, per quanto riguarda la pericolosità sismica non è una pericolosità. Esistono invece alcune faglie, tra cui questa che ha generato il terremoto del 1873, ma anche le faglie della sequenza del Friuli 76, per esempio, che sono praticamente bloccate per gran parte della loro vita, sono immobili, accumulano l'energia che viene dal movimento delle placche e poi a un certo punto decidono che non ce la fanno più e si muovono e in quel momento generano il terremoto. Il loro comportamento nel tempo è rappresentato da questa specie di gradinata, dove l'alzata del gradino è il singolo terremoto. Ora, le faglie sismogenetiche sono questa sottoclasse di faglie attive e noi cerchiamo di identificarle dove stanno nel territorio. Per quale scopo? Perché nel passato lo abbiamo visto, possiamo guardarlo con i documenti storici, possiamo guardarlo con tante tecniche e anche con tecniche geologiche, ma soprattutto noi vorremmo vedere ciò che succederà nel futuro. La pericolosità sismica, le mappe di pericolosità sismica servono a questo. Cosa accadrà nel nostro futuro? Come dobbiamo pianificare il territorio su cui viviamo per impedire che i futuri terremoti che sicuramente accadranno facciano tanti danni? Questo è il motivo per cui noi ci focalizziamo su questi studi e capire dove stanno le faglie, quanto grandi saranno i futuri terremoti e ogni quanto tempo potranno avvenire. Per l'attività delle faglie ci sono diversi intervalli temporali, ma consideriamo soltanto la parte qua giù in basso. sostanzialmente in Italia queste faglie compressive, che sono le faglie che hanno generato il terremoto nel 1873, praticamente hanno iniziato, si pensa che abbiano iniziato la loro attività circa 2 milioni e mezzo di anni fa e man mano hanno continuato ad essere attive. A causa delle loro attività non solo ci sono stati terremoti, ma anche c'è stato il sollevamento di catene montuose. Una faglia è un oggetto che sta nel sottosuolo, una crosta terrestre, non è un qualcosa che sta in superficie, ma un qualcosa che arriva a diversi chilometri, questo è un esempio del terremoto di Amatrice del 2016, che arrivava circa a una dozzina di chilometri di profondità, e sono oggetti, a seconda della quantità di energia che liberano durante i terremoti, cioè della magnitudo del terremoto, che possono essere anche grandi diversi chilometri quadrati. Per esempio, questo terremoto di magnitudo circa 6,5 ha generato una faglia lunga 24 chilometri e larga 12 chilometri. Immaginate un rettangolo 24 per 12 chilometri. Sono diverse centinaia di chilometri quadrati. Le faglie possono arrivare in superficie, tagliare la superficie, per cui noi le possiamo studiare andando a vedere la traccia di come tagliano la superficie, e quando c'è un terremoto possono anche attuare altre faglie presenti in superficie, che possono a loro volta contribuire al danno generale del terremoto danneggiando alcune infrastrutture. Questo è uno schema di una faglia di tipo inverso, come questa che ha generato il terremoto nel 1873, e di come ci sono tante tipologie di faglie secondarie che possono ritivarsi in superficie quando c'è il terremoto. Il terremoto è generato dalla faglia principale, questa qua sotto, quella che noi cerchiamo, però durante il terremoto si pede appunto queste altre faglie superficiali che possono contribuire al danneggiamento, non con lo sconto, ma con la dislocazione della superficie terrestre. All'INGV classifichiamo, cataloghiamo le faglie sismogenetiche con un database, è uno dei database che è stato presentato durante il primo intervento, e i database, tengo a precisare una cosa, l'INGV è un ente pubblico di ricerca, per cui siamo finanziati dal governo, e tutti i dati che noi produciamo, per cui devono essere resi disponibili alla popolazione per scopi educativi, ma anche a altri colleghi di ricercatori, di università, di altri enti di ricerca, perché in questa maniera si favorisce l'aumento della conoscenza e gli approfondimenti degli studi. In Italia, come vedete, abbiamo fatto un gran lavoro, anche questo è un database nato circa 20 anni fa, e siamo arrivati a riconoscere qualche centinaio di faglie attive che sono rappresentate in questa mappa da queste aree arancioni. Allora, quando c'è un terremoto, cosa succede? Allora, il terremoto è classificato, quello che noi chiamiamo terremoto è lo scuotimento, l'arrivo delle onde sismiche, però in realtà quando c'è un terremoto succedono anche altre cose che generalmente alla popolazione sfuggono e che poi magari possiamo vedere per che escono le notizie sui giornali. Allora, una faglia che si muove e genera un terremoto deforma la superficie terrestre, genera delle zone di sollevamento e di subsidenza, che sono riconosciute grazie analisi adesso negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni, grazie all'analisi di immagini satellitari, deformazioni che piano piano contribuiscono a creare il paesaggio in cui noi viviamo e che controllano alcuni fenomeni superficiali che geologi come me o altri colleghi cercano di identificare per poi localizzare le faglie stesse. In particolare, queste deformazioni superficiali controllano l'andamento del drenaggio. Io sono specializzato nello studio dei fiumi e di come l'attività delle faglie controlla l'andamento dei fiumi. Un altro fenomeno che a volte avviene, a volte non avviene, di cui vi ho parlato anche prima, è la fagliazione superficiale, cioè quando la faglia genera un terremoto talmente forte che riesce a tagliare la superficie. Lo scuotimento, oltre a produrre danni, produrre effetti sull'ambiente antropico, produce anche effetti sull'ambiente naturale. In particolare, lo scuotimento è in grado di innescare frane, movimenti franosi, e questo è molto importante in ambienti montani, come per esempio Belluno. Durante il terremoto del 1873, moltissimi effetti naturali, ambientali, sono state l'innesco di frane. è importante studiarle perché una frana può impedire, per esempio, ostruire una strada, ostruire una linea ferroviaria, per cui in caso di terremoto, per esempio, può impedire l'arrivo dei soppelli. E poi ci sono altri fenomeni, come per esempio questi delle liquefazioni del terreno, oppure l'apertura di fratture nella superficie terrestre. C'è un rapporto molto specifico fra la geometria della faglia che genera il terremoto e come è fatta nel sottosuolo e come è fatto, come sono fatte, come sono disposte le aree che ti sollevano e vanno in subsidenza durante il terremoto. Questi sono dei modelli numerici che abbiamo elaborato per alcune faglie inverse, cioè faglie della stessa tipologia che ha generato il terremoto nel 1873, in cui si va cambiando, per esempio, la pendenza della faglia, cambia la posizione delle zone in subsidenza, vedete queste zone qua posizionate sulla destra, rispetto a una pendenza più bassa in cui la zona in subsidenza per esempio si trova a sinistra rispetto alla zona in sollevamento. I nostri studi sono focalizzati proprio sull'identificazione dove si posizionano queste zone e si sollevano e le zone vanno in subsidenza per cercare poi, capendo dove stanno, di capire dove è posizionata la faglia e qual è la geometria della faglia, cioè com'è fatta la faglia nel sottosuolo. Utilizziamo soprattutto i fiumi perché i fiumi, l'acqua scorre lungo la linea massimo gradiente, immaginate se c'è un qualcosa che si solleva davanti a un fiume, il fiume devia, cioè cerca di evitare questa zona di sollevamento dove entra ed è costretto ovunque a passare in una zona di sollevamento, il fiume incide per cui scava delle valli, delle incisioni, dove invece trova delle zone per esempio qua davanti, zone che vanno in subsidenza e deposita i suoi sedimenti perché i sedimenti trasportati ai fiumi dipendono dell'acqua, la velocità dell'acqua dipende da quanto pende il greto del fiume e quanto pende il greto del fiume dipende da come l'attività tettonica deforma la superficie terrestre, per cui se sollevo davanti a un fiume diminuisco la pendenza per cui diminuisco per esempio la velocità dell'acqua e il fiume in alcuni posti deve depositare e in altri posti deve incidere. La conseguenza qual è nel sottosuolo? La conseguenza è che anche gli strati di roccia sedimentaria deposta dai fiumi non sono uniformi, non sono degli strati dei materassi con la stessa altezza ovunque ma ci sono dei materassi che hanno spessori variabili più spessi dove il fiume posita prevalentemente i sedimenti e meno spessi dove invece lui deve incidere. Un esempio molto diciamo bello importante qua vicino a noi è come l'anticlinale la collina del montello che noi geologicamente chiamiamo anticlinale è una piega che si è sollevata a causa dell'attività di una faglia inversa e nel corso del tempo diciamo nel corso degli ultimi 50 100 mila anni ha costretto il corso del piave a deviare e a girare attorno e probabilmente uscire attraverso la stretta di Nervesa il piave circa un centinaio e migliaia di anni fa andava dritto passava per la paleovalle di monte belluna poi piano piano questa anticlinale è cresciuta davanti e il fiume ha dovuto deviare un esempio avviene nella Nuova Zelanda in cui si vede un terremoto 2016 a Caicura la faglia è arrivata in superficie c'è un corso d'acqua che prima diciamo seguiva questo andamento e improvvisamente si è visto crescere davanti un muro per cui il corso d'acqua ha evitato questo muro e ha girato e ci sono poi tanti altri esempi per esempio di fiumi che hanno le faglie parallele al loro andamento per cui loro piano piano si spostano vicino alla alla faglia e a questo vado avanti perché scusate era una presentazione molto tecnica di ieri e per cui queste sono un po' di alcune evidenze diciamo geofologiche e geologiche che noi utilizziamo per cercare di identificare le faglie però in realtà utilizziamo anche dei dati storici i dati contenuti per esempio nel database CFT questo è i danni prodotti dal terremoto 1873 che tipo di informazione possiamo derivare dalla da questi da questi danni da queste informazioni storiche possiamo sapere per esempio l'epicentro del terremoto dove è avvenuto il terremoto e generalmente la faglia sta dove è avvenuto il terremoto dove i danni sono massimi è il punto più viva la faglia la magnitudo del terremoto per cui la quantità di energia che è stata rilasciata per cui le dimensioni della faglia la profondità a cui è avvenuto il terremoto e questo ci consente diciamo di focalizzare i nostri studi su zone della grossa terrestre più superficiali oppure più profonde oppure se il terremoto è stata una sequenza di terremoti per cui più faglie che si sono attivate pensate nel 1976 oppure è stata una singola scossa una sola grande faglia si tratta in un determinato momento come cambia per esempio guardiamo la profondità questi sono due terremoti avvenuti a gennaio 2012 di la stessa 4.9 un terremoto avvenuto a 30 km di profondità un altro terremoto questo a destra a 70 km di profondità l'impatto in superficie nonostante la quantità di energia rilasciata è stata la stessa l'impatto è differente il terremoto diciamo più superficiale viene risentito molto forte in un'area più ristretta il terremoto più profondo invece viene risentito in un'area molto più ampia perché le onde sismiche sostanzialmente sono in grado più ampio e questo lo si vede facendo questi diagrammi in questo diagramma abbiamo la distanza dall'epicentro sull'asse delle X e la massima intensità macrosismica i due terremoti sono rappresentati dalle linee blu e rosse e vedete come il terremoto profondo sostanzialmente ha questo andamento piatto vedete la linea rossa più o meno piatta perché sostanzialmente quasi tutti i centri abitati hanno avuto lo stesso risentimento anche a grandi distanze oppure vicino all'epicentro invece il terremoto più superficiale ha prodotto effetti molto abbastanza forti vicino all'epicentro e poi mano in mano sono stati diciamo azzerati gli effetti per terremoti invece e questa è l'ultima cosa che vi concludo così terremoti superficiali come potrebbero essere stato per esempio il terremoto del 1873 vedete che innanzitutto l'intensità massima è alta e poi nei primi 50 km l'intensità macrosismica decade per poi appiattirsi per cui i terremoti ancora più superficiali rispetto ai 30 e 70 km hanno una macrosismica ancora diversa ci consente di capire dove potrebbero essere posizionate le faglie per cui focalizzare i nostri studi a livelli della crosta terrestre più superficiali oppure più profondi ringrazio anche per aver mantenuto il tempo perché è tiranno a questo punto invito Maria Cristina Giovannini del Dipartimento della Protezione Civile che ci parlerà della protezione civile e la cultura della previsione buona sera a tutti io sono Maria Cristina Giovannini sono una collega del Dipartimento della protezione e sono una giornalista mi occupo di comunicazione di protezione civile di comunicazione del rischio e di emergenza da molti anni da 15 anni oggi vorrei parlare con voi io non ho una presentazione ho immaginato più questo incontro come una chiacchierata è una riflessione da fare insieme sul tema della comunicazione e sull'importanza della comunicazione tra le attività di prevenzione proviamo a dire proprio semplicissimamente che cos'è la comunicazione del rischio la comunicazione del rischio mette insieme gli esperti del rischio in questo caso esperti di rischio sismico i colleghi gli esperti che avete sentito per esempio parlare sinora ed esperti di comunicazione insieme lavorano a dei contenuti e sono gli uni sentinella dell'altro da una parte ci sono gli scienziati che comunque danno una solidità una validazione tecnico-scientifica di tutto quello che viene veicolato all'esterno dall'altra ci sono i comunicatori che hanno il compito di rendere quei contenuti così difficili a volte anche così respingenti perché molto tecnici semplici accessibili e veramente comprensibili e utili per tutti qual è l'obiettivo della comunicazione del rischio sostanzialmente gli obiettivi sono due mettere le persone in condizione di fare delle scelte consapevoli nella vita di tutti i giorni quindi vivere bene il proprio territorio viverlo in modo consapevole e dall'altra sapere come comportarsi soprattutto in una situazione d'emergenza in modo da potersi proteggere da poter proteggere se stesso e le persone care le persone che lo circondano questi sono i due macro obiettivi come vedete sulla carta sembra tutto codificato tutto abbastanza lineare questo dovere di informare la popolazione è in capo alle istituzioni ed è un dovere che garantisce un diritto che è il vostro diritto un diritto di cittadinanza che è il diritto a essere informati su questi temi al di là di questo processo così lineare del fatto che noi in Italia abbiamo una solida cultura della prevenzione e che abbiamo anche lavorato efficacemente negli anni in termini di comunicazione del rischio purtroppo c'è ancora qualcosa che ci sfugge per colmare veramente quel gap che ci fa dire che ci potrebbe far dire abbiamo delle comunità pienamente resilienti e a mio avviso questo gap è legato soprattutto a quella che è la concezione di rischio è proprio su questo che vorrei soffermarmi ho visto che questa giornata ha un taglio storico ed è giusto che sia così perché abbiamo così importante recuperare la memoria individuale e collettiva del nostro vissuto proprio come comunità e quindi anche per parlarvi di rischio proverò a partire da lontano e a spiegare perché è così difficile per noi tutti parlare di questo argomento è un argomento risultante un argomento di cui non vogliamo tanto sentire parlare perché mai perché questa ostilità è un rapporto quello con il rischio che è maturato nel corso del tempo e quando parlo di tempo di grandezza molto diversi da una parte abbiamo il tempo dell'evoluzione della specie quindi un tempo veramente lunghissimo lentissimo che ha portato il nostro cervello a conformarsi e a settarsi su due diverse velocità abbiamo un cervello rapidissimo che è quello che agisce che reagisce e che lo fa sulla base di scelte che sono quasi opache alla nostra coscienza sono dettate dall'emotività e poi abbiamo un cervello più lento un cervello analitico che è più tardo nell'evoluzione della specie e che è quello che ci permette di razionalizzare ed elaborare razionalmente le informazioni accanto a questo tempo molto molto lento e anche difficile proprio da immaginare abbiamo il tempo invece più vicino che il tempo della storia il tempo che è quello del nostro patrimonio culturale che è un tempo che misuriamo in secoli in questo caso per arrivare a parlare di rischio dobbiamo aspettare l'epoca premoderna quando è che compare il concetto di rischio per la prima volta sostanzialmente per interessi economici sono le primissime compagnie di assicurazioni che introducono questo concetto quando si parla di rischio si parla di rischio per le imprese marittime sono imprese che prevedono tempi di navigazione molto lunghi in cui ci sono in balli interessi economici molto importanti e in cui il rischio che in quel caso è inteso come esposizione ai fenomeni naturali è molto alto in questo caso il concetto di rischio è completamente sganciato dall'azione umana l'uomo non può agire sul rischio c'è una concezione fatalistica e quindi è come se ci fosse una sospensione di responsabilità totale a fronte di fenomeni non prevedibili imponderabili che sfuggono alla nostra comprensione andiamo un pochino più avanti siamo nel più o meno nel diciassettesimo secolo siamo in un momento storico-culturale completamente diverso c'è una maggiore confidenza nelle capacità dell'uomo c'è ottimismo nelle capacità dell'uomo c'è un proliferare di scoperte scientifiche ci sono dei passi in avanti importanti di tipo tecnologico quindi il concetto di rischio assume è un po' quello che noi definiamo oggi una chance un'opportunità quindi non ha affatto un'accezione negativa un rischio è qualcosa che io corro ma che può avere in base al mio operato al mio agire un esito positivo o un esito negativo per arrivare però al nostro concetto di rischio a quel concetto comunque negativo che ci fa sentire in qualche momento infetto con noi stessi e che forse è la ragione di disagio che ci anche allontana dall'essere fruitori sereni di un'informazione su questi temi ecco per arrivare a questa concezione che definirei moderna dobbiamo aspettare la fine del Settecento metà Settecento siamo nel 1755 e l'Europa affronta un'emergenza che dominerà le cronache appunto in tutta Europa il dibattito culturale per lunghissimo tempo immaginiamoci un terremoto di emergenza e quanto la troviamo sulle prime pagine di tutti i quotidiani per lungo tempo la stessa cosa successe a metà del Settecento con il terremoto di Lisbona è un terremoto distruttivo è un terremoto che provoca la morte di 20.000 persone quindi è una veramente una cosa epocale un terremoto seguito da un maremoto che impatta pesantissimamente sull'economia di Portogallo e dell'Europa tutta siamo a metà del Settecento siamo in un momento di fermento culturale importante e quindi a parlare di terremoto insomma non sono proprio solo le cronache locali ma abbiamo dei nomi così tipo Voltaire e Jean-Jacques Rousseau che dibattono amenamente su questi temi aprendo la strada a quella che poi starebbe chiamata filosofia del disastro in particolare è Rousseau a introgurre quello che è per noi adesso inscindibilmente legato al concetto di rischio ossia al concetto di responsabilità voglio leggere velocissimamente un passaggio in cui Rousseau rispondendo a Voltaire che aveva scritto un trattato sul terremoto di Lisbona dice non è stata la natura riunire in quel luogo 20.000 case di 6 o 7 piani e aggiunge se gli abitanti di quella grande città fossero stati distribuiti più equamente sul territorio e all'interno in edifici di minore imponenza il disastro sarebbe stato meno violento o forse non ci sarebbe stato affatto che cosa intende Rousseau secondo voi intende che non ci sarebbe stato il terremoto no terremoto non si tratta di alterare il corso della natura o impedire che un fenomeno naturale si verifichi ma pone l'accento sul concetto di responsabilità e sul tema fondamentale della scelta scelte che vengono compiute venivano compiute vengono compiute oggi nella nostra società contemporanea a livello individuale perché ognuno di noi poi è comunque solo nell'interfacciarsi davanti da una scelta propria vita quotidianamente e che vengono però compiute anche a livello di comunità a livello di collettività e che hanno un impatto poi sulla vita di tutti noi da questo momento questi temi diventeranno inscindibili rischio responsabilità scelta e quindi noi facciamo in termini di comunicazione del rischio deve tenerne strettamente conto e deve andare sempre sul doppio binario del parlare a tutti dell'essere efficaci per tutti ma del parlare anche a ciascuno perché io devo andare comunque ad agire sul comportamento di ciascuno e sulla consapevolezza di ciascuno come vedete si introducono dei livelli di complessità non è facile abbiamo introdotto così proprio rapidissimamente un piano cognitivo sulle nostre scelte e sulla nostra propensione a sentir parlare di rischio un piano storico-culturale che anche incide notevolmente sul nostro vissuto individuale e collettivo e sulla memoria anche storica che noi conserviamo degli eventi e dei fenomeni naturali quando facciamo comunicazione del rischio quindi declinandolo nel pratico che cosa significa tenere conto di tutti e di ciascuno significa creare una comunicazione efficace che contempli degli elementi che siano validi per tutti per esempio quindi che parlino indistintamente a tutti i cittadini in Italia che possono essere trasversalmente esposti a diversi rischi ma che tenga conto anche delle specificità delle singole comunità secondo voi la stessa cosa parlare di maremoto qui a Belluno o parlarne nei paesini della costa calabrese oppure parlare di terremoto qui o a Nuoro ogni comunità per proprio vissuto personale per propria esperienza ha un approccio diverso al rischio e ai rischi diversamente espressi è quindi importante tenerne conto e cercare di tenere insieme questa sfera generale con quella più particolare più di dettaglio che ci permette di arrivare più efficacemente al cuore anche delle persone allo stesso modo non è affatto neutro parlare di rischio sismico per esempio a persone che non hanno mai vissuto un terremoto sulla loro pelle o parlare di rischio sismico in casa di chi invece ha vissuto una grave emergenza perché se è vero magari che chi ha vissuto un'emergenza è più sensibile e quindi più inclina all'ascolto dall'altra avrà dei bias dei veri e propri bias cognitivi avrà dei preconcetti avrà delle paure legate al proprio vissuto che gli impediranno di essere completamente aperto e completamente neutro rispetto a quello che gli verrà detto la comunicazione del rischio quindi deve tenere insieme tutti questi elementi per essere efficace come dipartimento nazionale ci abbiamo provato attraverso una campagna di comunicazione che spero conosciate che è la campagna di comunicazione io non rischio buone pratiche di protezione civile è una campagna permanente che si svolge tutto l'anno che è stata è nata ed è realizzata con diversi partner tra cui capofila l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e che ha proprio questo obiettivo di parlare di rischi naturali di farlo a tutti ma di dare poi questo dialogo sul territorio facciamo attraverso dei gazebo in piazza e sono i montari a parlare ai cittadini quindi sono cittadini che parlano ad altri cittadini dei rischi del loro territorio e lo fanno principalmente attraverso uno strumento che si chiama linea del tempo immaginate filo teso da una parte all'altra della piazza con una carrellata degli eventi che percorri la storia di quel territorio è evidente che l'attenzione di ognuno è più alta se si parla di qualcosa che lo riguarda quindi è questo vissuto personale che dobbiamo intercettare tenendo conto però anche delle paure delle resistenze che potrebbero esservi ragionevolmente legate l'indicazione del rischio deve anche essere molto basica è sbagliato immaginare che se vogliamo visualizzare qualcosa debba essere un tomo alto così e che le persone comuni debbano manipolare maneggiare tutte queste informazioni sarebbe impensabile quando io devo riparare un lavandino e metto la mano così mentre sono impegnata nella cassetta degli attrezzi io voglio tirare fuori una chiave inglese quella che mi serve per riparare il lavandino immaginatevi la comunicazione del rischio come una cassetta degli attrezzi se è caotica se è confusionaria se io la affastello di informazioni complesse probabilmente non sarò in grado di recuperare l'informazione che mi serve nel momento in cui ne ho bisogno quindi queste informazioni devono essere poche e semplici e semplici però non significa banali vi ricordate quello che ho detto all'inizio la comunità scientifica che è l'ante di queste informazioni e che comunque valida e aggiorna di continuo il rigore scientifico di quello che viene comunicato chiudo dicendovi che la comunicazione del rischio è fondamentale ma è impensabile farla in emergenza la comunicazione del rischio deve essere fatta ogni giorno deve essere fatta nelle scuole deve essere fatta con appuntamenti come questo bellissimo questa opportunità che abbiamo oggi deve essere fatta nei luoghi di lavoro deve essere fatta nelle piazze pensare di parlare di rischi a un cittadino che è coinvolto in prima persona in un'emergenza è impensabile perché una persona che si trova in difficoltà è poco inclina all'ascolto perché una persona che si trova in una condizione della propria vita quotidiana è più incline magari a dare credito alle bufale alle false credenze ai rumors ed è tutto legittimo cioè non dobbiamo in alcun caso derubricare le paure delle persone perché sono tutte legittime anzi dobbiamo farne tesoro per capire dove andare a incanalare la comunicazione soltanto però se questa comunicazione viene costruita passo dopo passo ogni giorno è possibile richiamare dal cassettino quella chiave inglese che vi dicevo quell'informazione utile proprio nel momento dell'emergenza ed è per questo che dobbiamo lavorare superando quel gap quella piccola diciamo quell'essere prevenuti quel rifiuto di parlare dei rischi del nostro territorio possiamo andare in una direzione di maggiore sicurezza per tutti intesa proprio come sei come sicurezza che mette insieme istituzioni e cittadini in un processo virtuoso e che ci permette di affrontare in modo resiliente e coeso anche le situazioni di emergenza che ci potremmo trovare a fronteggiare grazie 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 Cristina grazie a voi dei tempi strettissimi grazie se vi accomodate facciamo un piccolo break e poi io se volete sono a disposizione per far vedere un po' gli strumenti diciamo di il catalogo dei forti terremoti e il l'attrante visuale dei terremoti italiani ritorniamo fra 15 minuti sono quelle che mi ha dato lui la cartella mi ha caricato lui che devo dire ho fibra che ce l'ho della mancia sì sì grazie 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 a tutti. 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 E' lì da almeno 700 anni, 650-700 anni, con un grande danno. Il danno è fatto in questo modo. I danno sono le fratture, c'è un'anatomia patologica dei danni e questo danno qui, vedete questa pietra viene lesionata qui, un elemento divergente qui è fratturata per schiacciamento. Io so che cos'è, guardate questo danno è un danno, è un danno, è un danno molto simile, del tutto sovrapponibile come danno. e questo danno è un'anatomia. di cercare di riconoscere all'interno di manufatti antichi i segni di eventi sismici del passato per una serie di motivi. Adesso spero di non aver fatto un guaio, forse l'ho fatto. Perché non so come fare... La cartellina... La cartellina... Perché è importante? Ovviamente per brevità trascurirò alcuni casi molto significativi e passerò a un caso abbastanza recente. Un edificio in piazza a Visso. A Visso è uno dei centri colpiti dal terremoto dell'Umbria-Marc. Questa foto l'ho fatta nel 1997-98 quando facevamo degli studi dei sopralluoghi per studiare le possibili tecniche di intervento. e questo edificio aveva già avuto un intervento pochi anni prima, era stato rifatto l'intorno e si guardavano i danni che aveva subito. Si vedeva che in corrispondenza delle finestre aveva le lesioncine, però queste lesioncine erano in realtà il riattivarsi di lesioni molto più ampie che stavano sotto. Ossia l'edificio aveva avuto un accumulo di danni che avevano portato alla deformazione dell'architrave, alla separazione e quindi l'intonaco era polvere sotto il tappeto. Nascondeva il danno, non lo riparava. E questa cosa allora veniva come dire attenzione, quando si vede una situazione del genere non è che si può girare dall'altra parte. bisogna cercare di capire che i danni sismici, siccome i monumenti hanno questa lunga memoria d'elefanti, la loro memoria dura tutta l'allustenza, i danni sismici sono progressivi e recidivanti. Quindi quando un danno sismico comincia il terremoto successivo a distanza di X, non importa quanti, ripartirà da interventi sistematici di contrasto. e le vecchie riparazioni di solito non sono efficaci o non sono abbastanza efficaci. E quello che succede nel 26 ottobre 2016 è questo, esattamente quella finestra viene giù, l'esione si riattiva, l'edificio comincia ad andare in fuori piano, il 30 ottobre succede questo, il danno va avanti e si vedono anche delle cosine di cui tenere conto. Vedete queste chiavi molto vicine all'angolo? Queste chiavi molto vicine all'angolo sono una caratteristica che c'è anche da noi, soprattutto sui campanili e in altre situazioni. Sono delle chiavi metalliche, a 20 centimetri dall'angolo il ferro costava molto, non si metteva mai il ferro dentro il muro, quindi dentro il muro si metteva un legno e alla fine gli si metteva una chiave di metallo. La chiave la vedi, il legno no, qui lo vedi perché è questo, il legno marcisce, rigorosamente marcisce. Quindi tu credi di avere dei tiranti nell'edificio antico? Non li hai più. Io potrei raccontarvi molte storie, anche recentissime, di campanili del Feltrino che avevano una bellissima rete di tiranti, tutti rigorosamente dentro, avevano il legno marcito, in tutti abbiamo tirato fuori la chiave estraendola così, messo dentro un tirante metallico ad alta resistenza, chiuso con una nuova chiave, chiubucco. Questa è una cosa che ormai ho fatto in 4-5 interventi nel Feltrino e che è abbastanza sistematica. Però, quello che interessa, poi qui arrivano i vigili del fuoco, devono mettere in sicurezza, eccetera. Bene, io purtroppo quando vado in giro per Belluno o per Feltrino e penso all'archivio di dati